sempre da Lilton di Matera, non siamo a New York, le Twin Tower ce n'è solo una, è la Single Tower Kuba Wojciechowski, campione nazionale DNA si giusto, campione nazionale DNA, perfetto, andiamo avanti andiamo avanti con lei, come stiamo dicendo con tutti è una bellezza, ce la siamo tanto voluta e meritata oggi è stata una guerra pazzesca, vuoi dire qualcosa di questo 23 punti fatti del primo tempo e molti di più del secondo tempo cosa vi ha detto Pillastrini? Pillastrini ha fatto il suo lavoro, però non penso che c'è molto da dire erano meno 17, siamo riusciti a vincere la partita in un campo caldo, con dei tifosi che comunque non sono come i nostri però sono belli caldi e incazzati, quindi è stato fatto quello che dobbiamo fare quindi qua ce l'hai, un bel regalino che portiamo a Torino e torniamo tutti a Torino con un gran sorriso e allora col gran sorriso di Cuba, il mio, di tutti questi qui presenti vi diamo appuntamento all'anno prossimo perché Torino c'è di brutto in Serie A Carica Torino, Torino carica per il prossimo anno Grazie Cuba! Ciao Ciao! 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 Ciao!